per l'assine arrivo, nuova scala, sicuramente una segnata a terra c'è l'è dietro, c'è l'è dietro, chi non piace l'è dietro c'è l'è dietro c'è l'è dietro c'è l'è dietro c'è l'è dietro arriva il braccio d'equipaggiamento mei moro in posizione lancio un ratto sarà l'uav? no non è l'uav 3, no? l'uav è rientro forzato per fare rifornimento Occhio 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 Prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati Attacco a grappolo alleato in arrivo Sto subendo il fuoco nemico Sto subendo il fuoco Sto subendo le radars Mi sono andato in brazzo. Sisto in un'altra malattia. Attacco a grappolo alleato e in arrivo. Soldato nemico in arrivo. ... dove si è? Allora guarda. ... ha perso le vostre brazze. Siete al sicuro. Visto. ... ricordando terreno. Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, 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 non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. 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 Non è vero.